Buon pomeriggio a tutti, come vi avevo già detto questo video purtroppo va pubblicato sul canale in ritardo rispetto al solito, ma questa mattina ho avuto degli impegni improrogabili e sono arrivato soltanto da poco in ufficio. Però prima di iniziare ho deciso che è giusto che io faccia una carambata, perché dovete sapere che ieri non è stato assolutamente inventato il fatto che una persona, che potrebbe anche essere uno di voi in questo caso e Sandro, sia venuta a trovarmi e mi abbia fatto ritardare nella pubblicazione del video, però non contento anche oggi è voluto restare con me, per cui adesso ve lo mostro a testimonianza e prova di quello che vi avevo letto. Eccolo qua, guarda qui, questo è Sandro che è venuto e devo dire che non vuole assolutamente perdere l'occasione di stare due giorni con me, gli ho detto prima che dopo che lui è venuto apposta, ha fatto un viaggio lunghissimo, tanti sono già prenotati, per cui hai creato per quanto mi riguarda un precedente pericoloso. Adesso però mettiamoci a analizzare quello che dobbiamo, ovvero Mid Cap, Star e Growth e partiamo ovviamente dal Russell 2000. Vedete che è stata brutta la candela di venerdì, quasi una Marubozzo Black con massimo a 2.099 e chiusura a 2.072, a questo punto è abbastanza chiaro il trading range che va da 2.009 fino a 2.106. Mid Cap, nuovo massimo di periodo a 47.835, chiusura molto vicino ai massimi di giornata a 47.795, allarghiamo il time frame a settimanale e ci portiamo a questo punto a un primo livello che è 48.419 e poi 49.317, sono massimi della seconda e terza settimana di gennaio del 2022. Attenzione però, il primo obiettivo è sicuramente raggiungibile 48.419, 49.317 sinceramente è fin troppo ottimistico. Veniamo adesso al Fuzzistar, anche qui abbiamo un nuovo massimo di breve periodo a 47.339, la chiusura è stata a 47.309, siamo su un'area di resistenza molto importante, ma l'impostazione tecnica è perché possa essere superata e quindi tornare a 47.518, 47.690 e poi massimo del 26 di gennaio 47.802. Adesso cerchiamo di analizzare i titoli che hanno fatto meglio e quelli che hanno fatto peggio al di fuori del Fuzzimib. Devo assolutamente cominciare con D'Amico, D'Amico veramente incredibile, massimo di periodo a 6.81 e mezzo, chiusura a 6.68 con volumi altissimi 1.581.000, direi tre volte i volumi medi, quindi veramente segnale molto importante. Dobbiamo addirittura passare subito a time frame mensile e vedere che il prossimo obiettivo per D'Amico dovrebbe essere il massimo di luglio 2011 7.173, poi eventualmente 7.94.2. Vale quello che ho già detto prima per l'indice Mid Cap, è ovvio che c'è la possibilità di andare a 7.94.2, ma è molto più realistico che il movimento si possa fermare a 7.173, perché comunque è un ulteriore rialzo importante e il titolo viene, basta mettere anche un settimanale, prima avevamo il mensile, viene da questo super rally meritatissimo. Ho già spiegato per quale motivo D'Amico sia un titolo così forte, è una storia di successo, di turnaround di azienda che perdeva anche molti soldi, è tornata all'utile, ne sta facendo sempre di più e il mercato sta premiando assolutamente il titolo. Poi dobbiamo occuparci di Do Value, i problemi su Do Value non sono finiti, nonostante il bel rialzo di venerdì, seduta la più 681 con massimo a 2,115, chiusura a 2,055. Però diciamo che qui il problema è capire o no quanto sia fattibile o meno la fusione con Gardant, che creerebbe sicuramente un colosso quantomeno dell'area sud Europa, però il settore, e ci occuperemo tra poco di limiti, è un settore in profonda crisi, in profonda difficoltà. Tecnicamente però c'è ancora spazio per un'ulteriore salita. Primo obiettivo 2,245, la media mobile a 50, tra l'altro 2,243, poi c'è 2,315, 2,35. Poi proseguiamo, abbiamo detto, con i limiti, perché sui limiti ci sarebbe un movimento incoraggiante, perché il titolo è pronto per un'ulteriore fase di recupero. Vedete che ha finalmente rotto anche la trendline ribassista, partita dal massimo del 9 di febbraio, quindi ci sarebbe spazio per andare fino a 4,61, poi 4,70, quindi 4,85 massimo del 28 di febbraio, ma c'è un ma grosso come una casa. Ve l'ho aperto, purtroppo Renato Ciccarelli è un suo diritto, quando lui comunica nei tempi previsti l'accessione di azioni in quanto soggetto rilevante, amministratore delegato di Abiglio SPA, partecipante al comitato di direzione Limiti Bank, può tranquillamente farlo, però è già la seconda volta che vende in un tempo ragionevolmente breve e il mercato non apprezza che un manager che comunque potrebbe anche avere informazioni privilegiate, perché comunque lavora in limiti, venda a questi prezzi, non sono quantitativi mostruosi, però 30.000 pezzi a 4,4597, come dire 4,46, la vendita è avvenuta il 22 di marzo, praticamente in orari che sono 10.03, 12.04, 12.08, quindi se non ci fosse stata questa vendita sicuramente il titolo si sarebbe potuto finalmente avviare verso 4,70, 4,73, poi 4,85, il mercato potrebbe invece reagire nuovamente male perché fa un po' specie che venda a questi prezzi. Sempre fortissima Fiera di Milano, addirittura il nuovo massimo di periodo a 3,85, con chiusura tra l'altro vicinissima ai massimi a 3,84, qua conviene spostarsi subito su time frame mensile e dare target a 3,91, 4,05, 4,13 e mezzo, è un titolo da gestire assolutamente in stop profit, alzerei lo stop profit a 3,62 massimo di giovedì, ovvero in caso possiamo fare anche 3,61 e mezzo che è il minimo di venerdì, in caso di chiusura giorniera inferiore a 3,61 e mezzo usciamo dal titolo per evitare un ritorno a 3,36 e mezzo e poi 3,25 che è il minimo del 14 di marzo. Proseguiamo con un titolo che io ho nel mio portafoglio di medio-lungo periodo KenaV, penso di essere stato bravo ma anche fortunato, ha lasciato questo gap piuttosto importante aperto sul massimo di mercolì a 3,308, già giovedì ha superato ampiamente la media mobile a 203,49, 6 e addirittura venerdì ha fatto un nuovo massimo di periodo a 3,75, 4, chiudendo a 3,74, 8. Se allarghiamo la schermata a un time frame mensile il target è almeno 3,91, 2 massimo di agosto 2023. Andiamo a vedere anche sul time frame settimanale se troviamo qualche altro livello intermedio interessante, no, si va direttamente secondo me a 3,91, 6, quindi anche qui si continua a mantenere il titolo e poi ci si alza di volta in volta lo stop. Se come credo lunedì dovrebbe proseguire e superare 3,77 che è il massimo della prima settimana di settembre 2023, quello sarà il mio nuovo livello di stop profit. Poi proseguiamo con TXT, vediamo graficamente il titolo molto ben impostato, anche qui allarghiamo subito il time frame settimanale ma ha già superato il massimo della terza di giugno del 2023 che era 23,15, ha fatto 23,40, chiusura 23,25 questa settimana, quindi dobbiamo andare sul mensile e addirittura erano massimi storici. Vedete, io credevo che avesse nel passato fatto dei massimi superiori, quindi questo è un segnale importantissimo. Cosa significa? Che se rimettiamo un attimo il settimanale, 23,15 è il mio livello di stop profit obbligato. Chi fosse rimasto fuori da questo movimento però deve avere pazienza e aspettare il titolo almeno su un ritracciamento, che può essere 21,9 o addirittura 21,6. Proseguiamo con Caltagirone Editore. Caltagirone Editore è molto molto forte, Caltagirone Ordinaria è molto molto forte di periodo, addirittura ha rotto il massimo del 18 di marzo, 4,67, ha fatto un nuovo massimo a 4,86, poi ha chiuso a 4,81 e passando a time frame mensile vedete che torniamo a livelli molto datati nel tempo perché parliamo di settembre 2008, 5,0,475, poi abbiamo 5,37 e mezzo, 5,59 e mezzo, 5,68 e mezzo. Il primo target di 5,0,475 direi assolutamente alla portata. I successivi target che vi ho indicato sono sicuramente un po' più difficili da raggiungere, però la rottura è davvero notevole. Data Logic ha rimbalzato molto bene, però qui rimaniamo all'interno di questo trailing range davvero molto ben definito di 6 sedute, compreso tra 4,95,6 e 5,43. Se notate la candela del 15 marzo, quella dei dati di bilancio piuttosto negativi, fa da benchmark, cioè contiene tutte le candele successive, però sembra ci sia la volontà da parte del titolo di rompere 5,43 per ritornare prima a 5,58 e poi a chiusura del gap lasciato aperto a 5,78 sul minimo del 14 di marzo. Qui dobbiamo però ricordarci che i numeri non sono sicuramente positivi, per cui sorprende anche un po' che il titolo abbia voglia di rimbalzare perché, se vi ricordate, ha ridotto l'utile netto di circa il 66%. Una società che mi piace particolarmente è IWS, che ricorda in piccolo quello che vi ho detto prima con D'Amico. È una società che è stata riscoperta dal mercato. Vedete che movimento importante ha fatto dalla fine di marzo del 2023, quando valeva ancora 3,40. Siamo arrivati alla chiusura di venerdì a 6,28, quindi quasi un più 100% di movimento. Proviamo ad allargare il time frame a settimanale per vedere se è sufficiente. Direi di no. Allora passiamo addirittura a mensile. e qui abbiamo l'obiettivo naturale di questo movimento che è 6,402, che è massimo di aprile 2020. Dobbiamo sforzarci sicuramente di lavorare su un time frame settimanale, non su quello mensile, perché poi l'obiettivo successivo è molto ambizioso, ma potrebbe anche essere raggiunto, ovvero 7,178 massimo della seconda settimana di marzo del 2020. A differenza di D'Amico, però, dobbiamo poi verificare se questo rialzo è avvalorato da dati fondamentali adeguati. Numero incredibile di piovanni periodo, perché stava quasi rischiando di andare a rompere la media mobile a 200, che è poco sopra 9,50, e invece rimbalzi in maniera violenta andando a fare un massimo nella seduta di venerdì a 11,80, chiudendo a 11,40. Anche qui allarghiamo i vari time frame e vediamo che siamo su nuovi massimi storici. Per cui, quando arriviamo su nuovi massimi storici, anche se non sono stati confermati in chiusura, bisogna alzare il livello di stop. Per il momento direi che, se uno vuole essere estremamente rigoroso, lo può mettere anche sotto 11,35. In alternativa si può usare il massimo del 28 di dicembre, che è 11,20. Per chi invece è rimasto fuori dal titolo, deve aspettare almeno un ritest di 10,50, che peraltro è minimo di giovedì. Proseguiamo con un altro titolo che si sta comportando molto bene, che è l'UVE. L'UVE addirittura ha superato nella seduta di venerdì la media mobile a 200, 23,54, massimo 24,35, chiusura 23,80. Allarghiamo il time frame a settimanale e vediamo che l'obiettivo di questo movimento potrebbe arrivare fino a 26,5, che è il massimo della seconda settimana di settembre del 2023. Scorrendo i migliori, sicuramente non possiamo non parlare di Eles, che è in fortissimo rally. Il titolo è partito addirittura il 19 di marzo, ha lasciato un gap molto importante aperto sul massimo del 20 di marzo, 1,53,5 e nella seduta di venerdì è andato a fare un massimo in 3,85, chiudendo a 1,83. Allargando il time frame a settimanale, in questo caso abbiamo come successivi obiettivi 1,86,5, 1,88 e poi 1,99,5 massimo della prima settimana di agosto del 2023. Vediamo ancora un'altra società sempre ben comprata di periodo che è l'Italian Sea Group. Anche qui abbiamo un nuovo massimo storico, il precedente era 10,82, ha fatto venerdì 10,88, chiusura 10,86. Questo significa che se dovesse salire anche nella prossima settimana 10,82 sarà il nostro livello di stop profit. Chi invece fosse interessato al titolo deve aspettare almeno per un reingresso, aspettare almeno un ritracciamento fino a 10,18. Adesso andiamo avanti, vediamo titoli che abbiano scambiato un minimo. Ecco, questo è un titolo che so che interessa a molti, che è Eurogroup Lamination. Eurogroup Lamination, il segnale sicuramente è molto buono. Qui c'è sempre il problema delle quasi scaramucce tra fondi short, alcuni stanno riducendo le posizioni, altre le stanno riaprendo, però graficamente il titolo può arrivare a 4,03, massimo del 2 di gennaio, e poi sulla media mobile a 200, ovvero 4,21,6. Vediamo ancora Ascopiave, Ascopiave, Bella Marobos White, è importante la candela di venerdì perché significa che il titolo almeno area 2,30 la vuole tenere, quindi probabilmente per le prossime sedute avremo un training range compreso tra 2,30 e 2,44, che è anche il massimo di mercoledì. Poi ancora Zignagovetro, Zignagovetro anche qui vale un po' quello che ho detto prima per Ascopiave, non è ancora un segnale così clamorosamente positivo, ma perlomeno sembra ci sia la volontà di tenere i minimi di periodo che sono stati toccati il 9 di febbraio a 12,54. Ci può stare un rimbalzo per le prossime sedute, 13,16, 13,26, poi incrocio delle medie mobili a 50, 13,33 e a 100, 13,36. Proseguiamo con Cementir, Cementir qui al di là che i dati fossero molto buoni con quanto è comprata Buzzi non mi stupisce vedere Cementir provare a ritornare prima a 10,06 e poi a 10,18 che sono i massimi di periodo del 29 di gennaio. Molto bene anche Banca Sistema, Banca Sistema sembra voler tornare prima sul massimo del 5 di febbraio 1,30 e poi 1,32,8 massimo del 2 di febbraio. Proseguiamo con Serin Dassel, però bisogna fare molta attenzione perché il movimento è stato molto violento perché è andata da un minimo di giovedì a 2,28 o un massimo di venerdì a 3,095 ma ha chiuso con una bruttissima candela che è una shooting star quasi gravestone doji per cui prudenzialmente massimo sotto 2,72 in chiusura io uscirei dal titolo anche perché il segnale di venerdì è un segnale comunque non bellissimo perché aveva provato a accelerare a rialzo aveva superato la media mobile a 100 in maniera molto netta 2,88,8 ma poi ha chiuso a 2,78,5 e ha appunto questo micro gap lasciato aperto a 2,72 vediamo anche però se dovesse ripartire dove può arrivare il titolo direi 3,135 poi 3,29 però situazione molto molto delicata da gestire Digital Bros vi ho già parlato tantissime volte di Digital Bros di quanto sia in difficoltà però nonostante questo sembra che questo livello sia un tentativo e mi riferisco a 7,78 per provare a fare una nuova base e di conseguenza rimbalzare fino a 8,58 e mezzo 8,60 e mezzo poi 9,165 massimo del 14 di marzo media mobile a 59,34,8 media mobile a 100 9,93 proseguiamo con IMSI IMSI che devo dire ha rimbalzato bene venerdì in realtà ha già fatto un hammer giovedì minimo 0,52,7 chiusura 0,54 scusate 0,54 e mezzo venerdì non mi fa impazzire l'andamento perché è vero che ho fatto un massimo a 0,56,8 e potrebbe proseguire ancora a rialzo fino almeno a 0,58,7 poi la media mobile a 50 0,59,4 però chiude pur sempre sotto la media mobile a 100 che è 0,559 però perlomeno il minimo di breve dovrebbe essere a questo punto 0,52,7 guardiamo anche la sua controllata Piaggio che invece è in una situazione tecnica decisamente più positiva è stata si respinta dalla media mobile a 100 2,91,5 ha fatto 2,91,4 chiusura a 2,89,8 con una spinning top ma ritengo che possa tornare a 2,99,4 e poi sulla media mobile a 50 ovvero 3,034 proseguiamo e vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante sicuramente Alerion perché Alerion è su minimi importanti e se finalmente in quest'area sui 18,50 riesce a far base un rimbalzo almeno fino a 19,80 e poi fino a 20,35 è anche sicuramente alla portata però attenzione per farvi un esempio io decido conscio del rischio di comprare Alerion con un prezzo limite a 19 lunedì in apertura già dovesse chiudere sotto 18,48 dovrei accettare la perdita e uscire dal titolo guardiamo adesso Avio Avio è in trading range vi avevo già detto che restringerà il trading range a 9,29,77 finché non esce da questo trading range ve lo disegno anche come proprio box di congestione così avete un'idea di quello di cui sto parlando a mio avviso bisogna ancora però aspettare che ci dia un segnale più importante SOS Travel mi piace molto a differenza di Travel che in realtà è la mia preferita tra le due però vedo dell'interesse su SOS Venaria ha fatto una Doji con massimo 1,32 e mezzo poi chiusura 1,28 e mezzo penso che possa ritornare fino a 1,39 e mezzo massimo dell'11 di marzo guardiamo anche Travel vedete che sta facendo molta più fatica aveva provato addirittura a rompere a ribasso sia il 29 febbraio con un minimo a 7,50 ma poi una chiusura a 7,92 sia il 18 di marzo con un minimo a 7,46 ma chiusura a 7,94 però allo stesso tempo se tiene quest'area a 7,70 un rimbalzo con primo obiettivo 7,98 poi media mobile in sequenza a 200 8,03 media mobile a 50 8,1 media mobile a 100 8,19 sono sicuramente obiettivi che potrebbe anche raggiungere poi attenzione a banca profilo perché banca profilo ha scambiato veramente tanto ma soprattutto in assoluta di venerdì ha disegnato un number of us white quindi 0,207 in apertura minimo di giornata 0,212 in chiusura massimo di giornata quindi sembra veramente pronta per rompere che poi è 0,213 quindi vicinissimo il livello riportarsi prima a 0,215 ma più probabilmente a 0,219 massimo del 20 di settembre perché dico attenzione perché quando si esce da congestioni così prolungate e magari dovesse andare a rompere anche 0,219 poi in realtà il titolo può andare anche a 0,229 0,238 per questo che sono congestioni da seguire ed eventualmente da sfruttare proseguiamo con Mutio Online volumi modesti di Mutio Online però è titolo che praticamente è su resistenza importante perché ha fatto per due sedute di fila 37,4 vi ricordate che avevamo visto il 37,5 che è praticamente qui lo vedete questo 37,5 che è massimo su time frame settimanale poi c'è 37,75 38,2 ecco fino a 38,2 non credo ci siano problemi poi 42,2 lo ritengo un po' troppo ambizioso che è il massimo su time frame settimanale della seconda settimana di febbraio del 2022 poi proseguiamo con CIR poi ovviamente come abbiamo fatto per IMSI faremo anche il SOGEFI bene perché CIR è pronta per rompere il rialzo quindi ritornare a 0,54 e 8 e poi a 0,55 e 7 andiamo a vedere su time frame settimanale prima e poi su time frame mensile però basta il settimanale perché i target successivi sono 0,57 e mezzo e poi 0,59 e 7 parliamo dell'ultima di febbraio 2020 e della terza di febbraio 2020 questo è un time frame settimanale di conseguenza dobbiamo ovviamente vedere SOGEFI anche SOGEFI sembra pronta per rompere i massimi di breve periodo ovvero 3,22 e mezzo in realtà poi rompendo questi massimi si va su livelli che non vedeva da diverso tempo perché il target di 3,476 è relativo a maggio 2018 vediamo se c'è ancora qualcosa per cui è opportuno fare un'analisi direi BS perché BS nonostante anche qui dati non particolarmente buoni soprattutto nell'ultimo trimestre 2023 è un titolo che potrebbe finalmente rimbalzare venerdì è stata respinta dalla media mobile a 50 11,99 ha fatto 11,98 poi ha chiuso a 11,84 credo che possa riportarsi prima a 12,05 poi 12,24 e quindi sul massimo il 29 febbraio 12,5 facciamo ancora bff bank perché è veramente inarrestabile siamo a parte la Maroboz White 12,09 12,35 siamo su nuovi massimi storici di conseguenza qui è opportuno sotto 12,03 andare in stop profit e tornare a guardare il titolo solo da area 11,50 poco sotto facciamo anche la telecom risparmio perché alcuni di voi hanno la risparmio e non la ordinaria non cambia nulla ovviamente siamo sempre inseriti in questo trading range che è determinato dalla candela benchmark dell'11 di marzo 0,2046 0,23,5 bisogna aspettare che rompa al ribasso o al rialzo questo trading range in questo momento non vi nascondo che nonostante quello di cui abbiamo già parlato rispetto all'ordinaria dei tanti fondi che hanno già aperto posizioni short o comunque possono portare le posizioni short le tour fino a 930 milioni di scoperto l'articolo è stato citato da Milano Finanza ma è del Financial Times credo che sia più probabile una rottura al rialzo cembre altro titolo splendido nuovo massimo storico 44,8 chiusura 44,7 in questo caso metterei uno stop già sotto il minimo di venerdì 43,1 anche se non credo che torni indietro per evitare un 41,7 poi un 40,4 veniamo adesso agli ultimi titoli che meritano di essere analizzati tra i migliori al di fuori sicuramente Revo Insurance Revo Insurance qua mi sembra che sia pronta per tornare a 9,16 poi 9,26 quindi 9,30 andiamo però a mettere anche un time frame settimanale perché non posso assolutamente escludere un ritorno a 9,38 e poi a 9,56 che è il massimo dell'ultima settimana di aprile del 2022 sempre molto molto bene Mayor Tecnimont Mayor Tecnimont è sempre sui massimi di periodo il training range è secondo me 6,83 7,36 non sono sicuro che andrà necessariamente a uncinare a rialzo però è ancora possibile un obiettivo a 7,38 perché ha fatto 7,36 poi abbiamo 7,86 7,89 7 non oltre però perché comunque un rischio di inizio distribuzione ci sono per esempio due divergenze ribassiste sia informazioni su MCD che più chiara su RSI che mi fanno un po' dubitare poi proseguiamo con Eviso vediamo Eviso che era un altro titolo sui massimi storici qui la situazione è molto delicata perché il training range è veramente molto stretto compreso tra 3,30 e 3,40 dobbiamo solo aspettare io credo che sia più preparabile un ritorno a 3,21 3,16 eventualmente sulla media mobile a 50 che è 3,128 però se dovesse rompere 3,40 potrebbe ritornare sui massimi storici ovvero 3,54 e poi 3,60 poi sicuramente Civitanavi Civitanavi altro titolo sui massimi storici perché li ha toccati venerdì in chiusura a 5,50 anche qui diciamo che se vogliamo essere un po' più di manica larga come stop profit lo mettiamo sotto 5,26 però se dovesse ancora salire la prossima settimana lo alzerei a 5,46 e per chi fosse rimasto fuori dal titolo direi non prima di 4,94 4,97 4,94 vediamo ancora se c'è qualcosa di interessante direi sicuramente concludiamo con Salvatore Ferragamo perché Salvatore Ferragamo è sicuramente in una situazione molto complicata adesso è in questo trailing range da tre sedute compreso tra 10,74 e 11,31 io credo che nonostante tutto possa ancora ritornare sui minimi di periodo quindi 10,52 poi 10,45 adesso invece dobbiamo occuparci dei titoli che hanno fatto peggio comincio con l'accoppiata we build we build risparmio comincio dalla risparmio perché secondo me il rally è stato fin eccessivo per cui se dovesse perdere 9,60 potrebbe tornare a 9,10 poi 8,80 e quindi 8,70 chiusura il gap che corrisponde anche al massimo del 15 di marzo l'ordinaria ovviamente nonostante poi abbia un po' recuperato perché non ho ancora verificato sicuramente prima dell'apertura di domani lo farò dovrebbe essere stato ceduto il 5% del capitale da unicredda ancora eredità a staldi per capirci a 2,20 e il titolo più o meno sia adeguato per cui ha lasciato questo gap aperto a 2,38 4 fatto un minimo di giornata 2,184 chiusura 2,272 e adesso punta secondo me a 2,16 minimo del 6 di marzo poi un titolo che mi spiego poco è Ariston sicuramente il mercato non ha apprezzato l'esplosione del debito che ha avuto il titolo in seguito all'acquisizione in Germania il debito adesso dovrebbe essere comunque superiore ai 700 milioni di euro abbiamo due livelli dove il titolo deve assolutamente dimostrarci quanto meno di fare base 5,04 minimo del 5 di marzo e il minimo storico del primo di novembre che è 4,89 poi nonostante mi sembrasse che Altea volesse recuperare ulteriormente e portarsi più vicina ai propri massimi storici che sono stati a 9,86 19 di gennaio dopo la shooting start di giovedì e la quasi Marubozo Black di venerdì attraverso la quale ha perso la media mobile a 50 8,18 e 6 ha chiuso a 7,86 dopo il minimo 7,80 mi sembra a questo punto più probabile un ritorno a 7,20 e poi 6,86 la media mobile a 106,88 e 4 guardiamo anche Redelfi come si sta comportando nelle ultime sedute Redelfi è anch'essa in un trading range però in questo caso 5,62 6,72 ma è più difficile capire se voglia riportarsi nella parte alta o nella parte bassa cioè su Altea mi sembra abbastanza più chiara la situazione poi attenzione a secco perché secco è un titolo veramente imprevedibile vedete che nella seduta di venerdì per chi non l'ha vissuta e vede solo la candela magari potrebbe non capire va vicinissima a sospendere a ribasso se non errore a tipo 3,36 la sospensione va a fare un minimo a 3,37 poi rimbalza in maniera violenta in intraday fino a 3,79,8 è praticamente respinta alla media mobile a 200 3,804 e poi chiude a 3,506 quindi titolo da trading range lo allargherei a questo punto a 3,27,2 3,84 qui si compra solo su estrema debolezza con stop rigoroso sotto 3,27,2 ci può stare che venga venduta Powersoft i dati sono stati pazzeschi per carità però titolo che ha toccato di recenti massimi storici a 17,8 l'8 di marzo venerdì ha fatto una Marbozo Black non troppo ampia come range perché 16,6 16 ha lasciato non ha lasciato neanche gap scusate pensavo che avesse lasciato il gap di un TIC aperto quindi qui vedo un 15,7 15,4 14,9 poi minimo del 29 febbraio 14,4 Antares ecco Antares io come sapete ho smezzato la posizione ma continuo ancora a mantenere l'altra metà in portafoglio qui dobbiamo stare attenti a questi livelli 2,75 micro gap da chiudere a 2,72 già sotto 2,72 diventerebbe pericolosa la situazione perché potrebbe tornare a 2,57 e poi a 2,44 mondo tv sapete cosa penso purtroppo la società ha perso la fiducia del mercato già tantissimo tempo fa con la prima svalutazione della library al di là che poi ci sono i POC però siamo su area di minimi storici e potrebbe anche andarne a fare di nuovi proseguiamo con un altro titolo che invece ha fatto molto bene di periodo ma adesso potrebbe iniziare una fase di correzione del FAE Technology credo che possa tornare a 4,33 poi a chiudere il gap a 4,29 sotto 4,29 però anche per chi ha posizioni di medio lungo periodo a prezzi di carico molto vantaggiosi a mio avviso converrebbe uscire dal titolo abbiamo poi Elen il movimento di anni è stato assolutamente sorprendente perché il titolo è salito oltre i propri meriti intendo dire i meriti dei dati pubblicati però abbiamo visto che sono state chiuse delle posizioni corte che erano state aperte in precedenza quindi sotto 10,1 sarebbe opportuno uscire dal titolo per evitare un ritorno a 9,66 4 media mobile 200 e poi 9,56 minimo del 18 di marzo poi se riesce a rompere anche 10,68 meglio per chi ha il titolo però adesso potrebbe iniziare una fase un po' più complicata per Elen poi Cyphergate Cyphergate me la chiedete in tantissimi pensavo che venerdì fosse la volta buona però nonostante abbia chiuso quasi sui minimi di giornata 5,66 dopo massimo a 5,88 è pronta per un ritorno a 6,13 poi 6,30 considerato che la media mobile a 50 è appena sotto 6,30 Castadiva Castadiva sta scambiando meno del solito quindi diciamo che più che un titolo venduto manca un po' un supporto da parte dell'acquirente che ha fatto fare l'ultimo momento a rialzo fino area 1,80 di conseguenza credo che possa tornare sulla media mobile a 100 1,42 4 poi c'è questo minimo del 30 di gennaio che è 1,42 quindi 1,38 e mezzo 1,35 considerate che poi la media mobile a 200 non è neanche troppo distante perché 1,34 e 1 guardiamo anche le due Danieli prima l'ordinario e poi la risparmio qui dovrebbe iniziare una fase di correzione con primo obiettivo 32,8 32,60 poi 31,90 quindi media mobile a 50 che è praticamente 31,6 Danieli risparmio anche qui dovrebbe iniziare una fase di ritracciamento primo obiettivo 23,9 poi 23,75 quindi 23,35 quindi media mobile a 50 ovvero 23 perché 22,998 quindi 23 GWS ecco GWS io sono curioso non ho ancora guardato il calendario delle trimestrali ma di vedere quali dati rilascerà perché sui fondamentali questo movimento a rialzo così importante me lo spiego poco adesso vorrebbe partire un ritracciamento primo obiettivo 6,56 6,54 quindi 6,44 poi 6,36 vediamo anche intercoss intercoss continua nella sua fase di discesa c'è un ultimo baluardo praticamente sui minimi toccati venerdì o meglio era 12,84 ho fatto 12,82 poi ha chiuso 12,88 la mia idea è che possa proseguire ancora al ribasso con primo obiettivo 12,22 e poi 12,08 guardiamo anche BF BF è un po' diciamo al momento della verità perché se tiene area 360 può tornare sulla media mobile a 203,702 poi c'è 373 massimo del 12 di marzo quindi la media mobile a 50 che è 377,1 quella a 103,81 e 6 in caso invece di rottura di area 360 può andare direttamente prima facciamo 351 348 ancora più probabile poi 3,44 quindi situazione molto delicata anche per BF guardiamo takeoff altro titolo che so essere seguito da molti qui siamo in trading range piuttosto stretto tra 0 77 e 0 84 quindi attenzione se dovesse perdere anche 0 77 probabilmente avrebbe sì 1 0 74 ma poi si va a 0 66 minimo del 13 novembre 2023 poi siccome ce ne siamo occupati in diverse occasioni della neocuotata ESPE adesso mi pare che sia un po' arrivato meglio che faccia fatica a superare area 4,30 per cui debba andare a chiudere il gap lasciato aperto a 3,64 poi in quella stessa seduta l'11 di marzo c'è un minimo a 3,26 tra i titoli che hanno corretto nella seduta di venerdì c'è anche Tinexta Tinexta però ha fatto candele inside ha chiuso sì sotto la media mobile a 50 che è 18.79 è talmente ampia la candela di giovedì come range che probabilmente potrebbe anche muoversi per diverse sedute tra 18.07 e 19.11 poi proseguiamo con De Longhi De Longhi di breve a mio avviso è arrivata al di là di un piccolo baluardo a 31.3 la vedo proiettata a 29.94 29.90 media mobile a 50 poi 29.18 minimo dell'11 di marzo quindi media mobile a 128.96 in tantissimi mi continuate a chiedere di Tesmec io capisco che molti di voi siano fiduciosi perché in passato il titolo vi ha riservato delle soddisfazioni però vi ho già detto come i numeri di bilancio siano stati abbastanza deludenti e come il titolo possa tornare a 0.084 minimo di febbraio 2021 poi 0.0798 e quindi 0.075 quindi molta molta attenzione per quanto riguarda Tesmec poi abbiamo ancora da guardare Karel Industries Karel Candela Inside per cui io credo che non sia cambiato nulla rispetto al bel movimento di giovedì abbiamo un turning range tra 19.08 e 20.5 credo che possa rompere 20.5 per riportarsi a 21.8 avendo media mobile a 50 a 21.72 media mobile a 100 a 22.06 poi come sapete ho voluto tenere NULAT a me i dati non erano dispiaciuti ho allargato avendo comprato una percentuale esigua del mio capitale lo stop a 5.76 per il momento continuerò a tenere se dovesse perdere 5.76 mi prenderò il mio stop e purtroppo ci può stare GP attenzione perché viene da super rally per il momento direi che fa da benchmark la candela di giovedì 11.62 12.20 però c'è ancora la possibilità di andare a rompere a rialzo per cui i target successivi per il titolo sono 12.28 12.46 poi 12.70 e 13 che è il massimo della seconda settimana di aprile del 2023 ultimissimi titoli sicuramente dobbiamo sempre tenere a monitor i GD perché i GD comunque qui potrebbe fare una base interessante ha fatto un nuovo minimo storico questa settimana 1.39 6 e mi sembra che ci siano le condizioni per un primo rimbalzo con target 1.51 6 1.55 poi massimo del 13 di marzo 1.602 adesso facciamo ancora in thread che ha fatto un po' più di volumi del solito venerdì e ha fatto poi un hammer quasi dragonfly direi titolo che rimane in un trading range compreso tra 9.40 e 10.20 e mi pare abbia la voglia di ritornare nella parte alta del range ed eventualmente andare a testare la media mobile a 100 10.40 poi quella a 50 10.48 e 4 abbiamo ancora da fare expert AI expert AI attenzione perché è vero che ha fatto un nuovo massimo di periodo 1.92 4 ma poi ha chiuso a 1.84 8 in realtà c'è ancora spazio per un'ulteriore salita fino a 1.99 poi 2.105 sempre stop profit però in macchina in questo caso lo metterei sotto 1.776 per evitarmi un ritorno a 1.672 poi 1.59 1.576 i dati come vi ho già detto non sono stati per nulla eccezionali poi proseguiamo con le due MFE cominciamo dall'A l'A forse anche meglio della B ma entrambe hanno ancora la possibilità di accelerare il rialzo di importante c'è che pur non avendo chiuso sui massimi di giornata perché venerdì ha fatto un massimo a 2.275 poi ha chiuso a 2.244 l'A ha comunque chiuso sopra la media mobile a 200 che è 2.233 per cui un ritorno a 2.295 poi diciamo 2.364 e 2.244 è assolutamente possibile la B come vi ho già detto meno bene però ritengo possa rompere quest'area di resistenza che è di poco superiore a 3.13 con un obiettivo sulla media mobile a 200 3.18 e poi sul massimo del 6 di febbraio 3.268 meritano ancora un'analisi direi sicuramente 1 euro perché 1 euro veramente è in una situazione molto molto delicata al di là che credo che possa proseguire al ribasso però abbiamo un 8.35 8.32 e mezzo poi 8.26 e mezzo 8.15 che sono che è il doppio minimo di periodo 26 di settembre 9 di ottobre poi vediamo ancora Safilo Safilo altro titolo che ha rilasciato dati non entusiasmanti però continua a stare in area di massimi di periodo qui c'è la candela benchmark che è quella del 15 di marzo 1.11.4 il giorno in cui sono usciti i dati come minimo e 1.23.8 come massimo finché non rompe il rialzo o non rompe il ribasso non avremo direzionalità mi dà l'idea che possa al momento più essere probabile una rottura ribasso con un ritorno a 1.075 1.066 poi 1.041 minimo del 31 di gennaio poi facciamo ancora tre titoli e poi chiudiamo direi sicuramente Schucker perché si sta un po' spegnendo e come vi ho già detto è fondamentale che tenga questo supporto poco sopra area 3 il minimo della congestione di breve 3.02 se non perde questo 3.02 può tornare fino a 3.54 e mezzo e poi media mobile a 50 3.654 media mobile a 100 3.81 e 6 abbiamo ancora da guardare Aquafil che è in trading range davvero molto stretto di breve periodo perché sono ormai quattro sedute che sta tra 3.095 e 3.24 comanda peraltro la candela 18 di marzo 2.995 3.26 quindi anche qui finché non andrà o sotto 2.995 o sopra 3.26 non avremo direzionalità l'ultimo titolo di cui dobbiamo occuparci è Sprinet e Sprinet ha fatto nella seduta di giovedì una spinning top simil doji ed è stata respinta dall'area di esistenza di 5.50 venerdì ha fatto una shooting star quasi gravestone doji 5.43 di massimo chiusura a 5.36 e mezzo quindi probabilmente nelle prossime sedute si muoverà in turn range tra 5.18 e mezzo e 5.50 con questo concluso auguro a tutti di finire nel miglior modo possibile questa domenica primaverile e qui in Emilia Romagna lo è stato quindi spero anche dalle altre parti e noi ci rivediamo lunedì domani prima dell'apertura del mercato diurno buona serata a tutti